benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo mi scuso per l'avvio un po in ritardo ma ho dovuto fare un'intervista a radio cusano campus un'intervista che ascolterete spero di riuscire a recuperarla perché ho detto alcune cose abbastanza rilevanti credo per l'attività del popolo della famiglia quindi dovremmo uscire il podcast tra qualche ora intanto saluto giovanni fiori e ilaria giurlani i primi due a raggiungerci nella diretta odierna c'è stefano sigali giacomo collotto io vi ringrazio per la presenza oggi anche ieri abbiamo fatto un altro record settimanale rompendo subito il muro dei 5.000 visualizzazioni siamo andati molto oltre credo siamo al ridosso dei 6.000 quindi continua a crescere questo è molto interessante di solito c'è una curva a discendere dopo la novità della ripartenza invece continuiamo a crescere come stampa evangelo quindi sono molto lieto di questo gabriella renare rosa e la nora degli esposti graziano dell'ellis giacomo collotto antonella bagno gabriele marconi maria cristina de pascalis andrea brenna gabriele marconi dice visto che fenomeno spadafora oggi parleremo in questa puntata che sarà un pochino più breve del del governo insomma dell'ultima novità grandiosa del governo la convocazione anzi l'istituzione per decreto di un tavolo di associazione lgbt guidato proprio dal sottosegretario della presidenza del consiglio il bando è della presidenza del consiglio dunque di maio ponte salvini per tutelare le persone attraverso le associazioni lgbt c'è un bel tavolo governativo della lobby quella che dovevano no proprio la famiglia voleva chiudere lunar loro invece attraverso lunar altro ufficio della presidenza del consiglio daranno soldi a pioggia alla alle associazioni lgbt istituendo un tavolo per decreto il decreto è stato appena firmato dal governo saluto silvia lucchetti susan demetz cristina zaccanti stefano sigali la juve è una partita difficilissima qual quasi proibitiva considera la juve ha vinto otto partite su otto cose che sapete per noi scommettitori sono la costante sono il la perfezione tra l'altro ha sempre vinto segnando più di un gol quindi vuol dire per chiunque abbia giocato juve e over 1 e 5 lo dico a stefano che è uno scommettitore come me noi abbiamo una linea di vincita costante infatti il nostro gruppo della scommessa collettiva cresce a dismisura grazie a questi risultati la la costante nella vita individuate la costante questa è la ricerca fondamentale scommetteteci sopra è la scommessa fondamentale di bless pascal che scommette sulla costante a expected value positiva in assoluto che è cristo credete affidatevi a dio non potete perdere è una scommessa dice pascal che non consente la sconfitta non c'è sconfitta possibile che bellezza che bellezza i pensieri di di bless pascal 400 anni dopo riletti anche magari alla luce ecco delle vicende più banali della contemporaneità va bene vi chiedo come sempre di iniziare la mattinata con un like alla diretta condividendo la diretta stessa sul vostro profilo segnalando il link al profilo stesso il link alla diretta anzi sui vostri contatti whatsapp ai contatti messenger mi rendo conto che è un orario diverso rispetto al solito quindi abbiamo perso un po' del nostro gruppo storico di telespettatori della pdf tv cerchiamo magari di aggrapparci ad altri che sono tornati in questo momento a casa magari dopo aver accompagnato i figli a scuola saluto laura terrana la moglie di nicola di matteo fabrizio delle piane daniela tascini pdf umbria antonio andrea brenna pdf como tante colonne del nostro movimento come lorenzo colonna preti gioco di parole francesca visconti carmine riola poi c'è una silvia silvia che non non so identificare ma la saluto clara ferranti la bionda clara ferranti di danilo bassan del pdf di padova stefano tommaso romano cordova pdf trentino e allora partiamo sempre dal vangelo che al mattino ci illumina e poi parliamo un po' di queste questo tavolo governativo dell'associazione lgbt istituito per decreto dal governo di tregua per i cattolici non c'è un euro per la famiglia non ci sono tavoli per la famiglia c'è il tavolo della presidenza del consiglio per le associazioni lgbt istituito per decreto se questo non vi fa pensare che la presenza del popolo famiglia in parlamento e al governo sarebbe decisiva per evitare questo tipo di storture e allora continuate a non sostenere il pdf se invece siete interessati ai temi e pensate che se sostengono dal governo ricordatevi che il decreto istitutivo dei tavoli non è stato fatto per il tavolo per la famiglia è stato fatto per le associazioni lgbt decreto istitutivo firmato dalla presidenza del consiglio conte salvini di maio noi invece non abbiamo come famiglia la famiglia naturale è completamente ignorata non solo ignorata dall'istituzione del tavolo sapete che è stata ignorata dal decreto dignità quello estivo e sarà ignorata anche nel decreto nella legge di bilancio che sarà approvata a fine anno se lo capiamo forse capiamo perché come dice bene alessandra mondelli pdf novara solo il reddito di maternità il cosciente familiare possono essere di questo parleremo durante questa puntata la chiave evolutiva di spesa per il nostro paese su cui noi impermiremmo una nostra manovra economica di riferimento lorenzo tra l'altro ci saluta dal sudan sapete che qui a stampa evangelo siamo seguiti dalla cina dal sudan spesso c'è chiara sam che ci scrive dall'austria abbiamo tanti amici che ci seguono da tutto il mondo e siamo lieti di parlare anche ai fratelli spesso sono in missione peraltro che ci seguono da tutto il mondo pensate a don massimo lapponi che ci segue dalla dallo sri lanka appunto jacopo che ci segue dalla 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 cina lorenzo ci segue dal sudan insomma è bello per stampa evangelo avere questo tipo di di pubblico anche sparso nei veri luoghi di missione del nostro mondo saluto floriana ceccarelli vito pietro loporcaro alberto mori paul freeman giuseppe che scrive dalla polonia e si firma giuseppe scrivo quindi lo saluto valentina baldacci dalla più vicina trieste alberto mori silvia indiati allora leggiamo il vangelo di oggi oggi è il vangelo di matteo fate un ultimo sforzo di like e di condivisione sul vostro profilo affinché il vangelo di oggi sia ascoltato da più persone possibili c'è sabina bosu che ci scrive dai castelli romani anna del guerra luciano dante da manopello patrizia gastaldi alberto mori luca calabrese che ci scrive da cuneo luca calabrese da cuneo allora oggi tra l'altro sono i santi angeli custodi come ci ricorda clara ferranti e il nostro angelo ci protegge sempre eccolo qui alle nostre spalle vigila su quello che diciamo facciamo e custodisce la nostra anima viva gli angeli custodi un saluto anche a danino leonardi complimenti per la puntata di dentro i fatti che ieri ha inaugurato la stagione e dunque è nel palinsesto della pdf tv dicevo un like alla diretta per favore una condivisione sul vostro profilo il link inviato ai vostri contatti perché andiamo a leggere il vangelo di oggi che è il vangelo di matteo ci siamo deviati dal vangelo di luca ma ripetiamo i concetti stessi letti ieri nel vangelo di luca in quel tempo i discepoli si avvicinarono a gesù cristo dicendo chi dunque è il più grande nel regno dei cieli allora gesù chiamò a sé un bambino lo pose in mezzo all'ora e disse in verità vi dico se non vi convertirete e non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli e chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del padre mio che è nei cieli questa è la parola del signore di oggi appunto la festa degli angeli custodi e dunque una pagina del vangelo che ripercorre lo stesso tema che abbiamo affrontato ieri leggendo il vangelo di luca l'innocenza il bambino il fanciullo l'innocenza che sola può guidare come diceva soren kirkegaard è una guida davvero per il popolo della famiglia gli innocenti che non sapevano che la cosa era impossibile a farsi la fecero è una frase del filosofo cristiano soren kirkegaard danese che individua in questa lettura evangelica a mio avviso molto bella la chiave per essere davvero degni dell'incontro con cristo che è l'innocenza viene essere messi da cristo al centro per essere in questa condizione occorre essere innocenti il nostro lavoro quando ci dicono è impossibile non si può fare non ce la farete mai saluto marco sciamanna del pdf umbria saluto anche federico caruso che viene qui a scrivere viva salvini saluto elisa picasso tra l'altro oggi ho difeso salvini un'intervista che ho fatto a radio cusano campus paragronando salvini e di maio al pd se mi capiterà sarà molto bello farvi sentire questa intervista perché credo di aver detto alcune cose possono essere utili per la nostra riflessione complessiva stefano tommaso mi chiede qual è il tuo vangelo preferito l'ho sempre detto durante stampe vangelo non mi seguite evidentemente caro stefano faccio la prima donna da questo punto di vista è giustissimo che tu non abbia seguito magari le altre puntate in cui ho dichiarato il mio amore per il vangelo di marco secondo me il vangelo di marco è la chiave d'accesso ai vangeli perché si legge in 85 minuti dura in tutto 16 capitoli ha una scrittura molto scandita molto cinematografica vorrei dire e è un regalo io faccio spesso quando voglio regalare qualcosa che sia chiave d'accesso alla lettura del vangelo quella che faccio io tutti i giorni qui a davvero straordinario da da possedere da leggere insomma lo dico per il rapporto con coloro che non hanno un rapporto abituale con il vangelo ed è la motivazione per cui facciamo anche stampe vangelo tutti i giorni per costruire un'abitudine a leggere ogni giorno una pagina di vangelo e trarne insegnamento per vivificare l'incontro con cristo e trarre insegnamento nella lettura dei fatti della giornata lo ripeto per i militanti del popolo famiglia questo riferimento al fanciullo innocente posto al centro più grande di tutti indica appunto che nell'innocenza c'è la chiave per riuscire a combinare qualcosa di buono essere degni di quell'incontro e lo abbiamo detto citando tirkegord e riferendo tutto questo all'attività del popolo famiglia gli innocenti che non sapevano che la cosa era impossibile a farsi la fecero allora abbiamo detto del tavolo istituito dalla presidenza del consiglio per le associazioni lgbt adesso stefano mi chiede anche il libro preferito dell'antico testamento che è il poeticissimo coelet ma non fatemi andare lungo perché non è interessante quello che preferisco io leggete le sacre scritture impadronitevene e scoprirete magari anche stampa e vangelo che vi legge un passaggio al giorno del vangelo del giorno perché magari non tutti vanno a messa tutti i giorni come è normale che sia che la sacra scrittura ha davvero questa forza vivificante nella lettura e poi una gran bella lettura cioè è roba scritta bene come dire per cui se uno legge il coelet dice mamma mia che bellezza che erotismo che gioia che forza no e dunque trovo nella lettura altro che le 50 sfumature di grigio insomma ecco trovo nella lettura delle sacre scritture una dimensione davvero vivificante se volete in alcuni passi anche eccitante in tutti i sensi possibili va bene andiamo a leggere qualche saluto anna cavallo antonio lepre fabrizio delle piane parla del buon ladrone francesco ciccio intanto siamo andati a tripla cifra anche oggi io vi ringrazio che tutte le puntate di stampa e vangelo sono a tripla tripla cifra come vi ho detto è un piccolo segreto del mondo dei social i post che funzionano devono avere cioè per avere una diffusione reale fuori dalla propria nicchia devono avere la tripla tripla cifra tripla cifra di mi piace tripla cifra di commenti tripla cifra di condivisioni bene tutte le puntate di stampa e vangelo hanno la tripla cifra sia di like sia di commenti sia di condivisioni questa è una grande gioia vuol dire che evidentemente qualcosa piace di questa piccola trasmissione via facebook e anche abbiamo anche la tripla cifra di chi ci ascolta in diretta allora dicevamo si è stata è stato varato questo tavolo cosa si a cosa serve questo tavolo a dare soldi a pioggia alle associazioni lgbt è un bene no secondo noi è l'ennesima variazione negativa su un tema fondamentale chi è che ha bisogno qual è la individuazione degli ultimi che secondo me è uno dei parametri che vale in questo momento avere al centro per la costruzione di una politica equa secondo i parametri di questa folle lo ripeto folle manovra economica che distribuisce denari direttamente dalla cosa pubblica alla realtà elettorale propria cioè tendenzialmente il disoccupato del sud che guadagna i 780 euro del reddito di cittadinanza il pensionando al minimo che va a 780 e il pensionato pensionando che pensa di andare in pensione prima e il pensionato al minimo che va a 780 euro ora questo tipo di manovra è una manovra folle perché non costruisce crescita cioè non ha le condizioni di creare quella ricchezza che si trasformerebbe in posti di lavoro per quel disoccupato si trasformerebbe in denari disponibili per fare politiche d'equità sulla previdenza e per i pensionati invece è un trasferimento diretto di risorse dalla tassazione complessiva al cedo elettorale di riferimento questo è un errore gravissimo se poi leggo il tavolo dell'istituito per decreto degli lgbt capisco che ognuno presieduto dal famoso vincenzo spadafora ve lo ricordate il sottosegretario che andò al gay pride sotto la santuario della madonna di pompei e poi ci vennero a dire che stava lì non in rappresentanza del governo ma lui ha ribadito io sto qui in rappresentanza del governo è chiaro che ognuno ha una porzione di elettorato di riferimento gli unici che non fanno niente per la loro porzione dell'elettorato di riferimento sono quelli che dovrebbero difendere la famiglia perché per la famiglia non c'è un euro noi come popolo della famiglia lo dico a giacomo cusumano che dice quanta ignoranza da parte di anni norfi non è ignoranza potete accusarmi di molte cose ma non di ignorare perché la lettura di un bilancio dello stato la lettura di una legge e di una manovra economica la so fare centocinquantamila volte meglio di voi perché conosco quello di cui parlo voi raccontate la copia di mille riassunti caro giacomo cusumano come cantava samuel e bersani voi raccontate i riassunti dei riassunti che leggere sui social io le cose le studio sulle carte tant'è che vi ho portato i denari come li avremmo spesi noi e come invece vengono spesi giacomo cusumano dice il reddito di cittadinanza aiuta proprio la famiglia non è così il reddito di cittadinanza andrà a integrare un pubblico di riferimento che è quello prevalentemente del giovane disoccupato del sud che non è ammogliato e non ha figli nella stratificazione sociale prevalente dei fruitori il fruitore tipico è luigi di maio se non fosse diventato vicepresidente del consiglio è la fotografia perfetta voi pensate a luigi di maio se non fosse diventato presidente del consiglio e avete il soggetto fruitore del reddito di cittadinanza cioè un ragazzo di 33 anni che ha attività saltuarie tipo lo stewart il pizzettaro e che individua dunque come segmento sociale il fruitore tipico del reddito di cittadinanza esattamente lui non sposato non lavoratore evidentemente chi pagherà perché questa roba si paga e si paga anche col terzo giorno consecutivo di abbattimento di valore delle aziende in mercato borsistico non abituiamoci a pensare i mercati come cattivi i mercati sono fatti da soggetti molti soggetti che individuano il valore o il disvalore degli atti che la politica compie e dunque di conseguenza acquistano non acquistano titoli del paese in cui si fanno quelle politiche il valore delle aziende italiane in tre giorni tre sessioni di borsa in tre sessioni di borsa è stato abbattuto di 40 miliardi di euro perché abbiamo perso il 3 72 il primo giorno lo 0 5 il secondo giorno adesso stiamo perdendo il 2 per cento sono stati persi 40 miliardi di euro di valorizzazione delle aziende italiane in borsa per fare un meccanismo elettorale di trasferimento diretto di denari dei lavoratori dipendenti pagati con le tasse ai soggetti tipici alla luigi di maio disoccupato del sud 33enne non ammogliato con lavori saltuari fare questo oltre a creare disastri nei conti dello stato 100 miliardi di debito in più in tre anni deficit triplicato dal 08 al 24 non crea ricchezza dunque non è una prospettiva di ricchezza quella che si costruisce perché la ricchezza la devi mettere nei cedi produttivi che sono i lavoratori le famiglie i papà e le mamme che vanno a lavorare si spaccano la schiena è lì che devi incentrare l'aiuto e andava fatto col quoziente familiare e con il reddito di maternità perché senza bambini questo paese è finito deve essere chiaro noi del popolo la famiglia dobbiamo avere chiaro io ho detto oggi a radio cusano campus il pd non ha capito niente è andato in piazza la sinistra è andata in piazza contro una legge e contro leggi che fanno stare temporaneamente meglio i cedi meno abbienti quindi una follia perché non hanno spiegato come invece dovrebbero essere spesi questi denari questi denari dovrebbero essere spesi per il quoziente familiare e per il reddito di maternità oltre che per il sostegno all'impresa familiare così si esce dal tunnel si crea ricchezza si avvia un meccanismo virtuoso che crea non sussidi statali ai disoccupati del sud tipo luigi di maio se non fosse vicepresidente del consiglio ma crea il posto di lavoro stabile per luigi di maio perché la ricchezza che crea i posti di lavoro non il sussidio il trasferimento diretto dalle tasse pagate dai lavoratori dipendenti ai disoccupati questo è follia dal punto di vista tecnico e macroeconomico e infatti genera povertà ripeto perdita di valore di 40 miliardi di euro in tre giorni e siamo solo all'inizio siamo solo all'inizio vedrete quello che accadrà nell'arco di un anno io l'ho avvertito una volta feci una puntata dicendo mettete i sacchi di sabbia alle finestre mettete i sacchi di sabbia alle finestre perché vedrete quello che accadrà e poiché io so di cosa parlo conosco perfettamente questi meccanismi vi dico mettete i sacchi di sabbia alle finestre se in tre giorni abbiamo perso 40 miliardi 40 miliardi di euro di valore nelle aziende in tre giorni pensate cosa succederà in 300 giorni cosa bisogna fare per innescare meccanismi virtuosi non è che ve lo racconta di nolfi che lo inventa si fa come fa trump abbattimento della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese il wall street l'indice di wall street il dow jones vola la valorizzazione delle imprese americane è clamorosamente cresciuta il pil è cresciuto del 4,2 per cento e la disoccupazione in america è al 3 per cento così si crea ricchezza da noi vogliamo continuare a fare politiche di assistenza senza fare figli dunque abbattendo la possibilità di crescita di questo paese anzi incentivando le politiche abortive incentivando le politiche stordenti tipo la cannabis quella light il contrario esatto di quello che bisogna fare le opposizioni non sanno neanche fare l'opposizione ho parlato ripeto in questa intervista spero che recupereranno dell'opposizione del pd che mi fa preferire 100 mila volte salvini e di maio sia chiaro però io sono a capo insieme a ognuno di voi di un movimento che prova a raccontare con la fatica della complessità perché sicuramente è molto più facile dire ti do tutto quello che vuoi 100 euro 200 euro 800 euro te li do no noi cerchiamo invece di spiegare la fatica della complessità cioè costruire le condizioni della crescita attraverso meccanismi virtuosi che generino ricchezza e generino futuro come appunto il reddito di maternità e il quoziente familiare e sicuramente se noi fossimo al governo non istituiremmo un tavolo per dare soldi a pioggia alle associazioni lgbt attraverso lunar altra ufficio della presidenza del consiglio noi dobbiamo dice andrea brenna urlare la complessità dai tetti io voglio che la complessità diventi affascinante anche per quel ragazzo che è venuto oggi a contestarci dicendo quanto è bello il reddito di cittadinanza noi gli vogliamo proporre un'alternativa studiare le carte saper leggere un bilancio dello stato capire che è troppo semplice se fosse così facile trasferire soldi direttamente all'elettorato di riferimento senza che questo abbia conseguenze perché se fosse così semplice amici miei come vi raccontano alcuni che dicono basta stampare moneta li avete sentiti no se noi fossimo padroni della nostra moneta la stamperemmo e la daremmo a tutti che ci vuole quanto vuoi 100 milioni ecco qua stampo 100 milioni di euro e te li do non funziona così così funziona con i soldi del monopoli se non c'è ricchezza vera se il paese non detiene ricchezza vera e attenzione la deteneva ma la sta depauperando con questi meccanismi folli di spesa pubblica noi dobbiamo saper costruire una lettura complessa delle questioni nerita piazza dice come mai oggi padre giordano padre livio ha letto l'articolo di mario giordano sulla verità la verità è un giornale governativo che dice va bene qualsiasi cosa faccia questo governo e la verità è alcun giornale contro la chiesa perché qualsiasi cosa faccia il papa o i cardinali va malissimo non è il nostro giornale di riferimento con tutto l'affetto per padre livio che ovviamente non muta la nostra riflessione è di altra natura noi portiamo nel mondo un patrimonio che è solo del popolo della famiglia che è quello di provare a spiegare con fatica con fatica quello che bisogna fare mauro chiaro si spiega bene ieri per spese mediche ho speso 380 euro il suo stipendio di lavoratore dipendente 1330 euro io voglio spiegare con esperienza anche mia mia figlia a 22 anni ha passato l'intera estate è l'intero anno per la verità a lavorare un suo primo lavoro la media mensile del suo stipendio non è mai stata di 780 euro l'estate mi pare che ha preso qualcosa in più l'agosto perché si è fatta tutto agosto a roma con una grande sacrificio ma se il governo ti dice io gli do 780 euro al mese pure se non fai niente ma perché mia figlia si è fatta stanno di mazzo lo capite quant'è pedagogicamente drammatica la scelta del reddito di cittadinanza va benissimo per prendere i voti il 26 maggio chi a marzo incasserà il primo assegno qualche milione di persone più pensionati che avranno la pensione di cittadinanza a 780 euro più quelli che potranno andare in pensione a 59 anni e 41 di contributi con quota 100 ovviamente tutti loro saranno milioni e milioni e milioni di persone felici di votare per quelli che hanno fatto questo regalo alle loro tasche per un anno perché poi vedremo le conseguenze di tutto questo che pagheranno tutti e pagheranno quelli che fanno un mazzo così tutto il giorno come il povero Mauro Chialasti per 1300 euro al mese di stipendio allora bisogna cercare di costruire delle condizioni tutt'altre per far ripartire il paese perché il problema ricordatevi sempre si devono e si possono fare politiche espansive io non contesto neanche la violazione del rapporto deficit pilli il problema è per cosa spendi i soldi lo ripeto esistono modelli che non ne dice maria di north trump abbattuto pressione fiscale su famiglie e imprese così crei ricchezza così crei occupazione così crei le condizioni di crescita così le aziende si valorizzano se si quota rimborsa così la ricchezza complessiva può essere redistribuita e così trovi anche il posto di lavoro per il di maio che non è diventato vicepresidente del consiglio a cui invece adesso abbiamo deciso di dare semplicemente non la canna di pesca per insegnargli a pescare ma il pesce in mano questo è drammaticamente sbagliato perché loro hanno una cultura che persegue lobby di riferimento e per esempio lobby di riferimento di vincenzo spadafora sono chissà perché le associazioni lgbt ed ecco il decreto per il tavolo delle associazioni lgbt non un decreto per il tavolo della famiglia in italia non un euro per la famiglia in italia non un euro nel decreto dignità non un euro nella legge di manovra economica niente per il sostegno alla disabilità 3,8 milioni di persone che sono a carico sostanziale della famiglia niente a sostegno della natalità niente sul reddito di maternità niente perché un padre di famiglia possa pagare meno tasse con il quoziente familiare niente per la figura femminile e la figura materna niente per la famiglia naturale ma il tavolo istituito per decreto per le associazioni lgbt ora lo capiamo perché serve il popolo della famiglia ora lo capiamo perché serve un movimento che ha al centro della propria azione la stella polare dei valori non negoziabili dei principi essenziali sulle quali inevitabilmente si può costruire cultura e ricchezza in questo paese spero di essere stato chiaro e scusatemi per l'innalzamento del tono di voce allora devo lasciarvi dice bene stefano che devo calmarmi mi calmo giuro che mi calmo saluto anche francesca visconti che lo sottolinea niente di niente anna del guerra dice la cultura della morte avanza spedita altro che tregua Gabriele Marconi siamo noi i folli che non li lasciamo lavorare che non aspettiamo Danilo Bassani il pdf è l'unico movimento politico che porta nel suo nome l'impegno per la famiglia Marco Fasulo il problema vero è che chi offre lavoro ai destinatari dei 780 euro se gli uffici del lavoro non funzionano è ovviamente il cane che si morda la coda che conosciamo bene saluto Marco Fasulo impegnato nella frontiera della Basilicata saluto Matteo Mazzariol dei distributisti saluto Mirko Fanizzi pdf Puglia Alessia Biagi siamo stagio di una informazione disinformante dice Alessia Biagi per questo esiste stampa Evangelo perché proviamo a fare una cultura politica informazione differente poi se siete bravi voi fate circolare questa puntata di stampa Evangelo su tutto il territorio dei social magari va anche oltre quindi vedete se volete fare il like a questa diretta la condivisione sul vostro profilo prendete il link lo passate a tutti i vostri amici ho visto proprio la Pongiduppi Leuteri dal coordinamento anche segnalare il link all'intervista che ho dato a Radio Cusano Campus in particolare sul Partito Democratico Mario Campanella del pdf Piemonte dice credo con una domanda retorica hai notizie del ministro della famiglia ecco bravo Mario saluto Simone in candela che mi invita a continuare così c'è Lucio Simonetti che dice non c'è niente di cui calmarsi va bene così Andreas Hofer Emiliano Fumaveri ricorda cosa accaduto nella Germania di Weimar subito dopo la prima guerra mondiale c'è Raffaele Dicembrino che ricorda La Croce quotidiano oggi con l'editoriale di Giuseppe Brienza e Rotellini mi raccomando non dimenticatevi di leggere La Croce quotidiano da abbonarvi sostenere il nostro lavoro quotidiano Meri Rossi anche lo ricorda il quotidiano La Croce ogni giorno ci informa e informa per tutti i pdf è necessaria la lettura grazie a Meri e dunque www.lacrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora per sostenere La Croce quotidiano anche per iscrivervi al popolo della famiglia se volete dare un sostegno concreto al nostro movimento e Luca Campisi dice ma alla fine quanto erano quanti erano quelli del PD non ci interessa la votazione sulla piazza l'hanno fatta pure se di noi è totalmente disinteressante erano pochi rispetto a quelli che servirebbero per fare un'opposizione in questo paese Tara Ferranti recita la preghiera a San Michele Arcangelo difendici nella lotta sì il nostro aiuto contro la malvagità insomma le preghiere ovviamente le possiamo recitare oggi noi qui leggiamo il Vangelo ed è il nostro modo diciamo così di essere molto legati alla parola Gabriele Marconici informa che Fontana intervenne il giorno dopo il varo della nota del DEF per dirsi incoraggiando dalla manovra stessa Anna Muggiano dice che Andolfini dice che stanno facendo grandi cose contenti loro vedrete che cambieranno idea un attore ci spiegavano che Stefano Parisi neanche otto mesi fa ci lo dicevano era il kingmaker del futuro della politica italiana oggi vedete dove sta Stefano Parisi quindi insomma non hanno una grandissima capacità di lettura dei fenomeni sociali e politici un saluto a Giovanni Fiori che dice investire sulle imprese sul lavoro e sulla famiglia crea lavoro e lavoratori che insieme creano ricchezza mi sembra abbastanza chiaro Andrea Cimmino mi dice che correlazione c'è tra Salvini e il demonio e mica siamo famiglia cristiana amici miei noi siamo il popolo della famiglia io oggi per esempio nell'intervista a Radio Cusano Campos ho anche elogiato Salvini nel rapporto per esempio con i leader del PD che mi sembra insomma paragonati mi sembrano molto meglio le proposte di Salvini quindi anche la proposta personale diciamo così non ho nulla contro la persona di Matteo Salvini che conosco bene ho fatto decine di battiti televisivi con lui litigando per carità ma io ho stima di di Matteo Salvini sono un avversario politico con molta lealtà molta schiettezza senza odio senza nessuna valutazione negativa sulla persona ognuno poi se la vede su un altro piano diciamo così nel giudizio personale sulle politiche che vengono applicate da questo governo dico la mia e fossi vicepresidente del consiglio state tranquilli non sarebbe mai varato un decreto della presidenza del consiglio che istituisce il tavolo per le persone LGBT e le associazioni LGBT perché quello è un tavolo per la lobby farei piuttosto un tavolo permanente sulla famiglia e farei provvedimenti a sostegno della famiglia è una cosa che si sa Clara Ferranti ci ricorda la preghiera di San Michele Arcangelo e suggeriva Papa Francesco che dice anche di pregare il rosario tutte le sere personalmente lo faremo tutti a sostegno di quanto dice il Papa e lo faremo per tutto il mese d'ottobre come ha chiesto il Santo Padre poi il 17 ottobre come sapete siamo in piazza Andrea Cimmino dice sei un grande in realtà sono solo grosso però gli sto simpatico e sono concordo sono contento di stare simpatico ad Andrea saluto Emiliano Velasco Angelo Casa Maria Marroso ragazzi devo andare perché mia moglie mi sta scudisciando nel frattempo fuori da qui avevamo un appuntamento in cui sono già in clamoroso ritardo doveva essere alle 10 a via Uderisi da Cubbio mi sta aspettando da allora sono alle 10 e 14 sto facendo stampa e vangelo voi sapete come marito in carica di donna al nono mese di gravidanza sarò scudisciato in maniera vergognosa sulla pubblica piazza da mia moglie la notizia che devo dare e la sta dando insieme a me Gabriele Marconi perché l'ho appena letta è che lo spread è sopra quota 300 ricordatevi i mercati non sono né buoni né cattivi chi fa l'idealizzazione del mercato o chi fa la demonizzazione del mercato fa un errore il mercato è un termometro che fa comprendere se le politiche che si stanno compiendo generano ricchezza o rischiano di generare povertà si comprende i mercati sono altalenanti possono andare di qua e di là ma se la direzione è solo una da tre giorni stiamo perdendo valorizzazione sulle imprese e stiamo vedendo impennare il differenziale tra il nostro titolo di debito pubblico e quello tedesco questa cosa ci deve allertare con neutralità non è che diciamo che questa è la prova divina che è tutto sbagliato perché è sbagliato penso di averlo spiegato durante questa diretta ma ricordatevi che quei indicatori che verranno rappresentati da Salvini e da Di Maio come gli indicatori dei cattivi che ce l'hanno con loro non sono indicatori agitati da una chissà quale spettre sono indicatori su cui le persone che ragionano devono guardare per capire cosa si può fare per raffreddare una febbre che evidentemente c'è che evidentemente c'è sabri dice mi devo prendere pure le scudisciate io me ne vado a prendere che silvia sarà ovviamente imbufalita silvia siamo con te dice la pongi mai nessuno difendete le donne difendete il marito che sta compiendo il suo servizio pubblico vedi anche chi era ardente vai da tua moglie subito ho capito adesso piano piano ci prepareremo saluto anche nicola di matteo vedo che è arrivato nella diretta c'è rossano giorello c'è roberto bruno interessante questa riflessione di giorello la febbre alta nei mercati per noi anche una grande opportunità per spiegare è infatti quello che sto tentando di fare da qui quindi ripeto il saluto anche a nicola di matteo il nostro coordinatore nazionale a marco rapetti arriconi a monica vitali credo sia stata una buona puntata se riuscite fatela circolare fate un like alla diretta date un link ai vostri amici condividetela sul vostro profilo una buona giornata a tutti ci ritroviamo domani dopo la giornata di champions league in cui è impegnata la juve quindi magari con qualche minuto di ritardo seguite bene la giornata di oggi e cercate di comprendere perché i mercati stanno reagendo così le cose che vi ho detto oggi credo siano utili alla vostra riflessione complessiva noi avremmo voluto tanto fare un tavolo per la famiglia lorenzo dice perché perdi tanto tempo a salutare perché le persone che vengono a questa diretta partecipano non sono un pubblico sono dei partecipanti alla diretta che danno delle idee ogni tanto tra l'altro leggo e dunque noi possiamo dire stampa evangelo è un programma collettivo dei militanti del popolo della famiglia che io saluto perché sono prima di tutto i miei fratelli in battaglia che stanno con me nella testugine e dunque sono più che meritevoli del mio rispettoso saluto ogni mattina questa è la ragione per cui io passo qualche minuto anche a salutare fratelli e sorelle della testugine che sta attraversando il deserto in battaglia per il popolo della famiglia nel frattempo in oltre 40 minuti di trasmissione cerco anche di dire delle cose che spero siano arrivate a voi anche in questa puntata di stampa evangelo a partire appunto dalla pagina di vangelo letta gli innocenti che sapevano che la cosa era impossibile a farsi la fecero ricordatevelo sempre figlio della pagina del vangelo di matteo di oggi è questo pensiero di soren kirkegaard filosofo cristiano danese che vi consegno diciamo così come frase finale di questa puntata di stampa e di stampa evangelo da mario rinolfi una buona giornata a tutti